Se eri faccia qualcosa prima che sia troppo tardi. A intervenire sul tema della sanità è il Partito Provinciale di Fratelli d'Italia che ribadisce l'importanza di una rete di presidi che preveda l'emergenza sanitaria sia sulla costa che nell'entroterra. Gli esponenti Baldelli, Montalbini, Polegioni e Cassellini temono infatti per il futuro delle strutture esistenti che da tempo, dicono, non sono in grado di garantire tutti i servizi erogati ai pazienti. Dieci anni fa hanno aggiunto che siamo stati ingannati con la creazione dell'azienda sanitaria unica e oggi a farne le spese sono proprio i cittadini. La vostra posizione è chiara e decisa. Che cosa avete chiesto al Sindaco Seri? Innanzitutto noi ribadiamo la nostra posizione di no all'ospedale unico sia a Fosso Segliore che a Pesaro. Poi dopo il trattamento che ha ricevuto Massimo Seri all'ultimo incontro del Partito Democratico all'interno del Teatro Fanese, dove è stato praticamente ignorato e ha dovuto intervenire mettendosi in lista con gli altri cittadini, un sindaco che rappresenta l'intera città, noi chiediamo a Massimo Seri un atto di dignità politica e personale, ossia di dimettersi e noi gli chiediamo, non chiediamo le sue dimissioni, ma gli chiediamo questo atto di dignità e gli chiediamo di ricandidarsi e il Partito Fratelli d'Italia appoggerà Massimo Seri nella sua ricandidatura per liberare la città di Fano da questo PD fanese che ha sottomesso Fano alle decisioni del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci e che ha sostituito un Sindaco democraticamente eletto, ossia Massimo Seri, con un Sindaco Ombra, ossia Renato Claudio Minardi. La nostra provincia, hanno detto, è la più massacrata dalla regione, nonostante il Presidente Ceriscioli sia stato anche il Sindaco del Capoluogo. Per questo Fratelli d'Italia chiede ai fanesi di unirsi alla loro battaglia perché, come hanno scritto nel volantino, con tanto di banda bassotti, ci stanno rubando il diritto alla salute. Noi chiediamo ai cittadini di sostenere questa battaglia per mantenere Santa Croce, non come campanile, perché siamo di Fano, ma Santa Croce è importante per tutta la provincia. Ricordiamoci che una volta che l'ospedale viene chiuso non si riapre più, non ci sarà più possibilità per Fano di avere una sanità di prossimità vicino ai cittadini e vicino a chi ha bisogno. Quindi basta con questo Partito Democratico che vuol prendere tutto e spostarlo a Pesaro. Noi siamo a Fano, abbiamo la nostra città, l'amiamo, ci abitiamo e qui ci vogliamo curare.